I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, in seguito ad una serie di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di due persone, di cui una di origine brasiliana. Il provvedimento eseguito rappresenta la conclusione delle indagini svolte nell'ambito dell'operazione Cannabis Farm, condotta nel mese di giugno e che ha consentito di individuare e sequestrare una piantagione di canapa indiana in località Marinella nel comune di Pizzo in provincia di Vibo Valencia, traendo in arresto sette persone sorprese a coltivare parte delle quasi 90.000 piante presenti che avrebbero fruttato sul mercato illegale circa 20 milioni di euro. Le indagini successive hanno permesso di acclarare la responsabilità penale delle due persone, le quali, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero avuto un ruolo ben definito nella produzione e nel traffico della droga sequestrata la scorsa estate, motivo per il quale il GIP ha disposto per il primo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e per il secondo gli arresti domiciliari.